Cosa risponde il Governo al grido di olore dei sindaci siciliani dopo il flaggello di incendio? Innanzitutto ringrazio il Presidente e il Sindaco Luca Orlando per l'organizzazione di questo momento di confronto con tanti sindaci. Ieri abbiamo visto la Sardegna, oggi la Sicilia, la Calabria sta andando a fuoco, così come altre zone non soltanto del nostro Paese ma anche degli altri Paesi europei. Il tema degli incendi è un tema che ormai è un'emergenza che non può più, deve trovare risposte immediate e vanno trovati innanzitutto con i ristori che dobbiamo dare a chi oggi ha perso tutto, con le difficoltà che ci sono perché come è noto la 353 del 2000 giustamente impone delle dinamiche per i ristori molto precise. Abbiamo alcune idee che stiamo sviluppando in queste ore per da un lato garantire il rispetto di quella norma e dall'altro però dare ossigeno a chi veramente ha perso il proprio raccolto, il proprio vestiamo e la propria attività. Ma credo che il tema vero sia come prevenire ciò che stiamo vedendo oggi. Noi dobbiamo tornare ad incentivare il ruolo dell'agricoltore come custode del territorio. L'agricoltore è il primo che può custodire il terreno su cui coltiva, oggi le dinamiche di incentivo sono sempre rispetto alla parte produttiva, quindi le parti improduttive sono un costo e non un incentivo. Dobbiamo invertire questa tendenza e credo che nel piano strategico nazionale dovremmo tener conto di questo elemento, il piano strategico nazionale della PAC, attraverso gli strumenti che la PAC ha individuato, gli ecoschemi, tutta l'architettura verde, va garantito che l'agricoltore che si prende cura anche delle parti improduttive, con una sana gestione che serve per prevenire fenomeni come quelli che vediamo oggi, deve essere tutelato, incentivato, aiutato e sostenuto. Il partito del Presidente Consumesci diventerà bellissima, appena diffuso ho comunicato stampa dicendo Patonelli non venga qui a cercare voti, anzi chieda scusa perché lui è responsabile dell'abbandono dell'agricoltura siciliana che provoca gli incendi. Io se in qualche mese da Ministro sono responsabile dell'agricoltura siciliana, mi scuso ma non penso sia così, peraltro come noto abbiamo incrementato di oltre 100 milioni il FESR, quindi le dotazioni economiche per i piani di sviluppo regionale proprio per sostenere l'agricoltura siciliana. Mi dispiace sentire le parole del Presidente, avrebbe anche potuto essere un pochino più accogliente perché assieme le cose le risolviamo, con le contrapposizioni come questa non vedo dove si possa arrivare. Ministro, allargando un attimo il campo, Giuseppe Conte ormai è ufficiale leader dei 5 Stelle, il Movimento adesso riparte con slancio e c'è una segreteria da costruire? Beh, c'è un percorso da continuare a fare assieme, un percorso di maturazione del Movimento che grazie alla forte leadership di Giuseppe Conte potrà riprendere il suo slancio anche sulle proposte che fa il Paese per appunto proporsi come partito guida della Nazione. Credo che non siano importanti i ruoli della segreteria ma quello che conta è il progetto politico che il Movimento ha per i cittadini. Scusi, i sindaci hanno sempre lamentato di essere stati lasciati soli a fronteggiare gli incendi, è una mancanza di programmazione, lei cosa dice? Beh, io penso che sia abbastanza vero, c'è bisogno di maggior coordinamento anche tra i soggetti coinvolti nella gestione degli incendi, l'incendio deve essere affrontato nel bosco, quindi attraverso in Sicilia il corpo forestale regionale, attraverso ciò che è stato traslato ai carabinieri del corpo forestale nazionale perché altrimenti diventa incendio di interfaccia ed è molto più difficile da gestire attraverso i pompieri. Credo che sia evidente che non mancano, non manca personale, mancano forse dei mezzi, manca un maggior coordinamento e forse i piani regionali non sono sempre aggiornati e attuati. I comuni hanno chiesto in questo incontro anche degli interventi di tipo fiscale, sgravi e ringhi dei pagamenti, su questo ci sono dei margini di possibilità? Su questo ovviamente il Ministero dell'Economia e Finanza che sta lavorando, c'è la Vice Ministra Castelli che sta da tempo pensando a elementi strutturali di sostegno ai comuni, credo che sia necessario visto non soltanto il tema degli incendi ma il protrarsi anche della pandemia, la durata della crisi pandemica e l'incidenza che questo ha avuto sui bilanci dei comuni, arrivare a soluzioni strutturali però non soltanto di mere proroghe della proposta dei bilanci o quant'altro. Credo che sia giunto il momento di affrontare con con serietà attraverso il Ministero dell'Economia e Finanza, il Ministero degli Interni, ANCI ovviamente, tutte quelle misure che possono dare maggior respiro ai comuni. I sindaci sono i primi, hanno il ruolo istituzionale più vicino ai cittadini, spesso hanno competenze ma non hanno strumenti per poi poter garantire l'esercizio di quelle competenze. Io desidero esprimere quantitudine apprezzamento al Ministro con la sua presenza e dire che lui ha potuto registrare un pensiero unico. Tutti i sindaci di qualunque parte politica hanno espresso la gravità della situazione attuale, hanno espresso grande fiducia nella possibilità di intervento da parte del Governo nazionale e ovviamente, così come chiediamo, un pari intervento da parte del Governo regionale. Credo che in momenti come questo occorre fino in fondo recuperare la collaborazione istituzionale e di questo, a nome di tutti i sindaci, che sono grandi.